eccoci qua ragazzi belli siete buonasera buonasera buon pomeriggio buon tardi pomeriggio a tutti e ben ritrovati qua sul canale dal vostro amico nice nella casa del pane e balloon oggi domenica 8 settembre spero voi abbiate passato una domenica in famiglia di relax insomma qua giornata uggiosa proprio di quelle brutte 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 proprio da pile sul divanetto a guardare trasmissioni sportive che ahimè ce n'è anche poco perché c'è poco in cui parlare però insomma al di là di questo spero abbiate passato una buona domenica tutti quanti allora ragazzi oggi c'è da dire veramente è diventato stucchevole c'è un personaggio nel mondo del calcio ogni due per tre veramente a un certo punto basta poi sembra cioè magari le intenzioni sono anche giuste no e magari possono anche sembrare giusti discorsi il problema che mi sembra che a volte sono sbagliati un po i tempi veramente sono sbagliati i tempi e questo rincorrere ogni volta al ball veramente sinceramente mi ha un pochettino stufato devo essere sincero ne voglio discutere insieme a voi adesso ne parliamo subito prima di cominciare vi invito ad iscrivervi al canale è gratuito non costa nulla iscrizione e attivazione della campanella per non perdervi mai nessun mio contenuto mettete un bel like al video anche quello è molto importante aiuta a sostenere il canale soprattutto ragazzi fatemi sapere la vostra nei commenti mi raccomando commentate numerosi sapete quanto ci tengo al vostro commento e soprattutto il vostro commento è spunto di nuovi contenuti per me perciò ragazzi siete parte attiva del canale mi raccomando fatelo in tanti se vi va seguitemi su instagram o un gruppo telegram nella descrizione di questo video ci sono tutti i vari link allora insomma prima di arrivare al punto volevo innanzitutto fare i migliori auguri a totò schillaci ragazzi perché è uscita una notizia da poco insomma che è ricoverato in ospedali condizioni stabili non ci hanno fatto sapere di che cosa si tratta però insomma se ne sta parlando veramente tanto e la cosa è abbastanza seria perciò i migliori auguri a totò schillaci al netto del di quello che è stato insomma i migliori auguri per la persona e poi ragazzi per me e per quelli della mia età totò schillaci è stato veramente il sogno dell'estate degli anni 90 dei mondiali in Italia cioè i mondiali in Italia sono stati fatti due volte uno non se lo ricorda neanche mio nonno che è del 36 e l'altro nel 90 perciò l'unico evento veramente importante in Italia cioè i mondiali fatti nel 90 lì il sogno era di vincere il mondiale e totò schillaci veramente ci ha fatto sognare perché quegli occhi spalancati a ogni gol è stato un qualcosa di veramente di veramente bello bello viverlo perciò insomma al di là di questo il ricordo che ho di schillaci è questo però insomma auguriamo a schillaci che si possa riprendere nel miglior modo possibile abbiamo già detto che stasera l'unico evento degno di nota sarà appunto la finale di sinner perciò speriamo in bene nel frattempo vedo che benasser si è infortunato adesso arriviamo al punto sulla situazione che volevo parlarvi prima nel frattempo appunto benasser si è infortunato si teme una lesione un lungo stop io devo essere sincero devo vorrei proprio capire adesso perché insomma se è un infortunio diplomatico se è un infortunio un po' preparato visto la situazione che si è creata o se è un vero infortunio se è un vero infortunio mi dispiace ma anche quello mi dispiace dirlo è da dare la colpa alla società milano perché avendolo messo ai margini del progetto non si è allenato per 10 12 giorni poi dopo all'ultimo non sono stati capaci di venderlo non sono più che non sono stati non sono riusciti a venderlo allora adesso lo vogliono integrare lo prende lo mandi lo mandi poi non è che la società può impedirglielo però insomma quando un giocatore non si allena e non ha i ritmi poi va in nazionale per giocare rischi gli infortuni così come così è stata insomma una situazione gestita veramente veramente male e adesso ti ritrovi il problema benasser oltretutto senza un centrocampista perché se tu lo volevi recuperare secondo me non ci sarebbe neanche riuscito perché insomma recuperare una persona che oramai ha la testa da un'altra parte vuole andare via perché ha capito che non lo vuole più perciò sta già pensando c'era poco da recuperare ora sicuramente non lo recuperi perché sei infortunato secondo me gestita un'ennesima situazione gestita male da parte della società mila detto questo chiudo la parentesi voglio passare appunto alle parole di commisso ragazzi veramente ma commisso 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 ogni a me mi viene da ridere che commisso non ho capito se ci è o ci fa nel senso che o ci prova o pensa un po di prendere in giro i suoi propri tifosi lui a volte per sviare il fatto che comunque ogni anno vende un big della fiorentina quando vende un big non sa mai come poter gestire la situazione non la riesce a gestire e sostanzialmente cosa fa la butta in cacciara e allora quello non si poteva scrivere zang è sparito insomma che poi magari per l'amor di discorsi possono anche essere giusti adesso io non entro in merito perché non conoscendo le vicende proprio per sentito dire quello che si sa si sa sempre sentito dire perciò magari le intenzioni e i ragionamenti sono anche giusti però secondo me veramente sbaglia i tempi e i modi perché lui non può lamentarsi sempre di un di un mondo però lui di quel mondo ne fa parte e di quel mondo ci giova perché insomma ogni anno vende giocatori alle varie alle varie squadre che gli danno bei soldini una su tutta la juventus insomma come lui deve coprire il fatto che ogni due per tre i più bravi li vende li vende alla juve anche con con pagamenti un po discutibili e insomma allora ogni tanto tira fuori il bombolone e quello di oggi è incredibile no insomma cosa dice vediamo cosa dice quello che mi ha colpito di più è quando dice in italia un disastro e non invidio i club che hanno vinto in questi anni lo hanno fatto grazie a situazioni debitorie assurde io adesso anche questo per l'amor di dio cioè non entro in merito perché non conosco bene le dinamiche ma mi sembra perché poi ce l'ha anche un po' anche con zang e non si sa più dov'è e quant'altro no insomma attacca un pizzico zang l'inter in un certo qual modo però io penso che bisognerebbe innanzitutto dividere la proprietà con la società perché la società inter milan juventus fiorentina napoli sono delle società i proprietari vanno e vengono non è che sono sempre gli stessi a parte uno che sono sempre lo stesso però gli altri vanno e vengono no perciò bisogna scendere poi è vero che le società se sono gestite male poi sono quelle che pagano e mi ricordo anni fa la fiorentina insomma con una gestione un po così così ma al netto di questo dove voglio arrivare io cioè tu non puoi è vero che l'inter o il milan hanno avuto problemi finanziari no ed è vero che adesso lui dice non si sa più dov'è zang ma zang ci ha rimesso l'inter stessa c'è zang ha pagato sostanzialmente cioè qual è il problema di commisso zang ha comprato l'inter e l'ha pagato poi nel frattempo io adesso non so debiti non mi occupo di finanza e sinceramente non mi interessa però può anche aver fatto dei debiti piuttosto che e in come garanzia ha messo la società che ha perso perciò lui si avrà fatto debiti lui la sua persona ma poi ha perso la società perciò ha perso dei soldi è stato un rischio gli è andato male per se sono non vedo dov'è l'illecito cioè non vedo dove dove può esserci la come si dice il il nesso sulla vittoria cosa c'entra la vittoria hanno vinto con 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 i debiti ma cosa c'entra questo hanno vinto cioè io io penso che una vittoria è è discutibile quando uno bara no sempre durante l'arco di un campionato succedono cose che magari allora lì si può ma io non capisco perché discutere la vittoria eventualmente dell'intero del milan quando è stato di chi che sia adesso non voglio fare figli e figli astri non non capisco perché discutere la vittoria per i debiti della società non c'entra poi qualcuno mi dirà anche vabbè ma hanno fatto i debiti per comprare giocatori che non si potevano permettere tanti dicono anche così ho sentito anche questo per comprare giocatori non si potevano permettere poi non sono riusciti a pagarli perciò tu hai vinto con quei giocatori ma come mi sembra un po un discorso un po macchia un po troppo macchiavellico nel senso e poi comunque sta di fatto hanno fatto anche se uno ha fatto dei debiti per comprare dei giocatori che non si poteva permettere ci ha rimesso la società cioè zang era il proprietario e ora non è più il proprietario dell'inter lo ha pagato e ha perso dei soldi perciò è stato il suo rischio e pericolo io la vedo un po così cioè io io non riesco a legare io non mi intendo di finanzia perciò al netto di tutto non riesco non mi intendo di come può essere gestita una società o meno io parlo spostivamente cioè lui secondo me l'errore che fa commisso è legare la vittoria di certe squadre alla gestione finanziaria della società secondo me dovrebbe separare non sono legate cioè o quanto meno si possono anche essere legate ma non è che la vittoria non vale perché la società è gestita male io questo non riesco a capire di commisso cioè lui vuol far passare il concetto che la vittoria dell'inter adesso perché lui ha parlato dell'inter ma ha messo anche in mezzo il mina la juventus un po cosi e cosi ma siccome dalla juventus a chiappa commissa commisso commisso fa finta di niente la juventus però tanto lì prende soldi per questo mi sembra un pochettino boh non lo so ma al netto di quello cioè quello che dico io non si può ridurre cioè non si può non far valere uno scudetto una vittoria perché a livello di gestione della società si è fatto qualcosa non di sbagliato di sbagliato o anche di sbagliato ma non c'è niente la vittoria in campo ci vanno dei giocatori di calcio al netto di tutti ci vanno dei giocatori cioè io sinceramente non riesco a entrare in merito a quello che dice commisso secondo me devo essere sincero la vedo un po così commisso è un po marpio un bel forbacchione no insomma poi parla anche del milan che oltretutto voleva anche comprare è un po furbacchione nel senso che lui ogni due per tre un big o uno forte lo vende oltretutto lo fa anche con la squadra diciamo nemica no anche detta dai propri tifosi insomma la juventus non è che sta tanto simpatica alla fiorentina ogni due per tre vende i big se li fa pagare profumatamente e poi per sviare il discorso perché sennò poi dopo a volte spesso c'è tutta la piazza contro per sviare il discorso tira fuori queste cose qua così nel frattempo fa una grattatina di pancia ai tifosi che insomma sinceramente vorrei cioè adesso io non non mi permetto secondo me da quando è arrivato commisso la fiorentina comunque nel suo piccolo ha fatto delle buone cose che poi lui sia bravo anche a gestire la società nel miglior modo che che pensa nel miglior modo possibile chapeau però dal punto di vista anche sportivo è stato bravo io dico che deve deve ritenersi bravo in questo non deve continuare a ad attaccare le grandi perché ogni due per tre attacca le grandi e una volta attacca l'inter e una volta attacca il milan e una volta attacca la juve un po meno perché la juve tira fuori i soldi gli copri giocatori spesso e volentieri insomma a me mi sembra che commisso vuol fare un po' il furbacchione a livello mediatico no poi ripeto non entro nel merito del ragionamento che magari può essere lecito magari può essere giusto a livello finanziario di una società ma stiamo parlando di caccio cioè lui secondo me lega troppo la gestione societaria con la vittoria della società sono secondo me legate perché insomma vince la società però io le separerei un po' il discorso cioè non puoi non puoi far valere una vittoria a comodo tuo solo perché se la società ha fatto dei debiti non va cosa vuol dire cioè è un po' come adesso lo vorrei dire io compro una macchina la compro a rate pagando delle rate e questa macchina la uso per fare delle gare e poi le vinco no le gare non valgono perché tu la macchina non l'hai pagata l'hai presa a rate e le rate non le hai pagate ma che cazzo te ne frega a te io intanto l'ho vinto con la mia macchina poi se non pago le rate adesso è stato un po' un esempio un po' così però insomma io scinderei le due cose devo essere sincero poi detto questo contento commisso contenti tutti eh va bene se a lui gli piace ogni tanto uscire fuori con queste cose qua va bene così ma mi sembra un pochettino esagerato detto questo ragazzi vi abbraccio di cuore a tutti quanti vi auguro una buona domenica forza sinner per stasera ci vediamo domani eventualmente visto che domani ci sarà la nazionale poi si rientra dalle nazionali e si rientra nell'atmosfera campionato champions e quant'altro perciò mi raccomando buona serata a tutti un abbraccio di cuore e come dico sempre io bye bye